Il finale è troppo! Questa volta si ci fa... Eeeeee! Mamma mia che ha fatto! E si è! Mamma mia! Mamma mia ragazzi! E' che ha detto di prima! Non riesco a salvare! Abbiamo visto che Viglianova è stato il resto dal francese che è andato su Firenze, Firenze, su Viglianova! Non c'era più facile! Rima che è rossa! Rima che è rossa!